Questo video, realizzato nel mese di settembre del 2024 e composto da un centinaio di immagini provenienti da varie nazioni, dimostra in modo esauriente la presenza di un'unica civiltà estesa su tutta la Terra in tempi non lontani. Il video avrebbe dovuto già averlo fatto un architetto, uno storico dell'arte o un critico d'arte, ma così non è stato. Dal momento che molti accademici sono in grado solo di riproporre la versione ufficiale che prevede dei geniali colonizzatori, i quali si spostavano in squadra per il mondo intero costruendo templi, campidogli e cattedrali. Insomma, la versione appresa a scuola e all'università. Le immagini potrebbero risultare ripetitive, poiché sono simili, però si tratta di una ripetizione necessaria per non lasciare dubbi sull'argomento. Non sappiamo chi abbia costruito questi splendidi edifici in tutto il mondo, ma di certo non sono state delle persone con strumenti primitivi che si spostavano a cavallo. Questo sarebbe impossibile, come dimostrano le dimore semplici costruite in epoca posteriore sullo sfondo dei maestosi edifici. Così come lo dimostra il paragone fra una costruzione di ieri e una di oggi. Aggiungiamo anche che in precedenza gli edifici non erano costruiti per la sola bellezza, erano dotati di risuonatori pratici, utili al ricavo di energia elettrica direttamente dall'etere. Questa magnifica e funzionale architettura può essere vista ancora oggi in ogni angolo della Terra. Ci sono molti misteri nel mondo, uno dei quali è proprio la scomparsa delle antiche civiltà. Fiorirono, costruirono incredibili strutture in pietra, ma improvvisamente scomparvero, lasciando solo rovine. Perché ciò sia accaduto rimane sconosciuto e c'è anche qualcuno che ipotizza come, dietro le quinte potrebbe nascondersi un misterioso regista che apporta degli aggiustamenti al corso della storia delle civiltà. Un misterioso regista che potrebbe anche essere un qualcosa di simile ad una intelligenza artificiale. Ma questo è un argomento per un altro video. Ora riprendiamo ad esempio il caso del cosiddetto Nuovo Mondo. Era davvero possibile costruire edifici simili in quel posto? Ingredibili strutture che rappresentano una grossolana discrepanza con la realtà. Edifici che sembrano provenire da un supposto medioevo europeo, in un momento in cui lì non c'era niente, con l'aggiunta delle date di costruzione quasi come una presa in giro finale. Ad ogni modo, quei costruttori del passato superavano anche noi in tecnologia, che riuscivano ad abbinare a un ordine mondiale basato probabilmente sull'armonia energetica e sulla comunanza di idee e risorse, piuttosto che sulla paura, come oggi. Inoltre, a giudicare dalle immagini, è assente il degrado, come invece appare evidente qui, dove il presente stona con l'imponente architettura precedente. Ma non vorrei parlare delle qualità stilistiche degli edifici, dei prodotti utilizzati e della necessaria comunicazione a distanza per coordinare le costruzioni, nonché del trasporto e della provenienza stessa dei materiali, bensì della forte sensazione di come l'umanità sia stata crudelmente ingannata e come tutto sia stato volutamente confuso. A cui si aggiunge il pensiero che, ragionando diversamente dalla maggioranza, nell'odierna società dei cloni, si diventa persone da biasimare. Vogliono, a tutti i costi, che noi crediamo che tutto sia stato costruito con gli strumenti più semplici, senza avanzate tecnologie, e forse si vuole anche nascondere la modalità della scomparsa di una tale civiltà. Considerando, infatti, lo sviluppo tecnologico superiore di quel periodo, l'uomo comune non avrebbe potuto distruggere gli abitanti fisicamente o intellettualmente, ma poteva solo essere spazzato via da tali creature. Eppure oggi noi siamo qui e loro sono scomparsi. Ciò solleva le domande, cos'è accaduto e chi ci governa oggi. E sarebbe ancora più importante conoscere chi ha proposto, per primo, il disegno di ingannare l'umanità. Sicuramente qualcuno appartenente alle solite famiglie che contano, ma chi lo ha aiutato a realizzare il piano? Il coinvolgimento di tutti i paesi è lampante. La bugia è generalizzata e ciò significa che tutti i leader sono esecutori di volontà altrui, altro che a servizio della collettività. E come può essere possibile che tutti loro siano in ostaggio, impediti dal rivelare una qualche verità? Probabilmente c'è un potere ancora più grande, un potere occulto di dimensioni titaniche. Infine, c'è l'aspetto sottolineato nel titolo del video. Se oggi stanno premendo tanto per attuare questo decandato nuovo ordine mondiale, forse l'idea non è tanto nuova. Ciò che sta succedendo ha sicuramente attinenze col passato. Forse c'era già un vecchio ordine mondiale da cui sono partiti e che ora vogliono riprodurre. Hanno giudicato i tempi maturi e innescato un processo per la conquista del potere assoluto. Quindi penso che la scelta delle parole non sia casuale. Nuovo ordine rispetto a cosa, se non a un vecchio ordine? Il terrore e i ricatti con cui operano e la soppressione della controinformazione hanno lo scopo di accelerare questo processo di accendramento dei poteri per insediare in maniera stabile una classe dominante formata da un numero esiguo di persone che governerà, forse per sempre, su una massa schiava e inerte. E c'è un'altra ipotesi inquietante, cioè che prima del collasso del vecchio ordine a causa di una catastrofe, probabilmente un diluvio, ma che potrebbe anche essere stata una vera guerra nucleare condotta da entità estranee, tutto fosse già nelle mani di qualcuno, visto l'alto numero di tempri massonici. Questo spiegherebbe anche come siano riusciti poi a ricostruire o ripristinare la catena di comando nel giro di una cinquantina di anni, un potere che si è cementato con i ricavi provenienti dal riutilizzo delle scoperte della precedente civiltà. Deve essere accaduto, quindi, che non tutte le documentazioni e i segreti andassero dispersi, soprattutto quelli conservati nelle città collinari o più alte sul livello del mare, in caso di diluvio, così che gli adepti sopravvissuti avevano già le linee guida di ciò che andava fatto. Impossessarsi di tutto e riscrivere la storia, seguendo forse un copione antico, dettato anche da precedenti eventi simili. Il teatro dell'Ottocento, comunque, fu certamente gestito con la complicità dei giornali, ma per il futuro bisognava intervenire in modo definitivo, per evitare interpretazioni diverse, e quindi si pensò a una struttura che potesse agire quotidianamente e in modo capillare sulla memoria. Fu allora che si pensò ad un sistema scolastico obbligatorio. Il lupo si travestì da agnello e, fincendo di voler promuovere l'istruzione delle masse, mise le mani sul passato. La scuola obbligatoria divenne un'arma dell'elite. Insegnava a fare di conto, leggere e scrivere, concedeva qualcosa, ma prendeva molto, cioè la coscienza critica. Lo stesso schema adoperato ancora oggi. Con la motivazione di preservare la salute pubblica, per esempio, si convince la gente ad accettare imposizioni deleterie e visioni distorte. Ed è forse proprio questo il motivo, cioè un continuo e pressante lavaggio del cervello, per cui nessun architetto sembra aver rilevato le incongruenze. L'obbligo scolastico e le politiche educative a cui sono stati sottoposti ha portato all'accettazione acritica dei dogmi. La volontà personale viene anniendata nei primi anni di vita e le menti vengono plasmate a piacimento. Giungendo quindi a parlare degli ideatori del sistema scolastico moderno, salta subito agli occhi il nome di John Davison Rockefeller, capitalista e industriale statunitense, influenzato anche dalle teorie di Herman Joseph Mueller sulla genetica e sul controllo scientifico della vita. Essi sapevano che tutti i bambini, costretti in un sistema educativo pubblico, avrebbero interiorizzato delle storie e le avrebbero ripetute per sempre. Quale modo migliore per ingannare la società, fornendo delle risposte controllate e impedendo la ricerca indipendente? Un controllo che cominciava in una classe diretta da un maestro, dove tutti erano seduti in fila a imparare le stesse cose allo stesso modo, nello stesso tempo, anche con l'installazione di clessitri nelle classi. Ben presto il sistema dell'obbligo scolastico si diffuse, anche se i bambini non si adattarono molto facilmente. Infatti, questo modo di educare risultava noioso e si scontrava con il loro istinto naturale di giocare liberamente e fare esperienza del mondo e di se stessi da soli. Ma a questo punto, la volontà personale dei bambini non poteva più essere un problema. L'ignoranza veniva additata come uno dei mali peggiori e tutti vennero convinti che la loro ostinazione dovesse essere combattuta. Così vennero anche introdotte punizioni corporali di ogni genere, che divennero parte integrante del sistema educativo. Lo scopo era quello di modellare elementi sottomettendo i giovani alla volontà della nazione, cioè delle élite. La scuola doveva essere uno strumento della politica, così come l'esercito o la polizia. Il sistema educativo, quindi, non fu ideato per sviluppare le potenzialità di ogni individuo, ma con il preciso intento di indottrinare i bambini e educarli all'obbedienza a fini politici e anche religiosi. L'educazione di massa orientata dallo Stato non era per niente a favore dell'individuo, ma serviva a imporre l'assoluta obbedienza. I teorizzatori della scuola obbligatoria si aspettavano di realizzare attraverso l'istruzione il fine che in Europa i dittatori stavano cercando di raggiungere con la forza. In questo modo ottenevano gli stessi risultati, ma si freggiavano del titolo di illuminati che concedevano alle masse la libertà derivante dall'istruzione. Questo è l'equivoco su cui si basa la supposta superiorità degli Stati Uniti, sempre descritta come l'unica e vera democrazia. Il General Education Board fu fondato agli inizi del secolo scorso proprio da John Rockefeller e Friedrich T. Gates, i quali riversarono milioni di dollari nel sistema educativo al fine di modellare l'attuale sistema scolastico. In questo modo il 99% delle persone è stato trasformato in automi attenti a camminare su percorsi prestabiliti e a seguire i dettami delle élite. Queste ultime, inoltre, convinte di avere la missione di espandersi e di fondere la loro visione di democrazia, fra virgolette, hanno largamente e deliberatamente influenzato il mondo intero negli ultimi due secoli. Hanno parlato di libertà ma intendevano subordinazione. Il Massachusetts è stato il primo Stato a promulgare la legge sull'istruzione obbligatoria. Storicamente questo è stato un grosso cambiamento anche per quanto riguarda gli aspetti relativi all'autorità parentale. I genitori che rifiutavano di mandare i propri figli a scuola venivano multati e in alcuni casi privati della potestà genitoriale. Edward Ross affermò chiaramente che erano in corso piani per sostituire la comunità e la famiglia con la propaganda e i mass media e le fondazioni Ford, Rockefeller, Carnegie investirono in tali progetti. Tutto programmato quindi. ciò nonostante a distanza di circa due secoli una maggiore consapevolezza si è fatta strada nell'umanità quello che viene chiamato comunemente risveglio e questo per i padroni non è ammissibile per cui ora stanno cercando di provocare uno scoguasso totale. Hanno racimolato i fonti con i metodi che sappiamo, hanno una intelligenza artificiale che li guida hanno tutti i cloni sistemati ai loro posti e hanno richiamato tutti i loro adepti all'obbedienza. Insomma, hanno verificato la struttura del sistema piramidale. Inoltre, prossimamente interverranno sul dissenso mettendo sotto accusa le piattaforme con metodi come quelli usati per Durov e chiudendo i canali accusati di divulgare fake news. Naturalmente non chiuderanno i canali della informazione controllata, quella che potremmo chiamare in assonanza con neogotico neoinformazione, cioè vecchia informazione riciclata. Un futuro triste quindi, già delineato, siamo all'interno di uno dei tanti progetti di Rockefeller and Company. In cosa possiamo sperare? Sì, grazie a tutti.